yuki shikawa avete cominciato bene anche questi playoff dopo la vittoria di giovedì sì ma abbiamo iniziato un po un po mare però l'importante che questa vittoria primo prima vittoria di preoff di cinque posto ancora tanto emozionati e felici per la vittoria di giovedì sì molto ancora rimaniamo in cuore quest'anno siete abbonati al tie break sì tante volte abbiamo fatto tie break però è quasi abbiamo vinto questo è importante adesso l'obiettivo è arrivare insomma vincere questi playoff per tornare anche l'anno prossimo in challenge cup giusto sì certo non solo per tipo è vinciamo questo preoff se cinque posto è giusto grazie a tutti